non c'è un'altra domanda, ora è finita la passata aspetta ah, un po' perciò questa domanda, non si può passare ho capito ho scelto, grazie a tutti loro possono passare Oddio ma perché mi dà ancora Che ci sono sfide qua Come osate Vabbè intanto un attimo Faccio un riposino Per Per equilibrare il karma E dopodiché E poi dobbiamo Ah dacqua dobbiamo Grazie a tutti Questo gine in mutande La donna è una bestia però Noi Sì 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 Oh e si unisce Kite Però ovviamente non combatte ancora Ancora non combatte lui però è già un nostro amico per così dire anche se poi vabbè ci sono tante cose che fa Sì Sì somiglia Sì 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 Ci siamo Qui non ci sono Non c'è nulla Ci sono i tizi tutti appostati Allora chi è che vuole combattere? Dai su forza La mazza chiudata Che era una delle armi di cloud nel remake Che era una delle armi di cloud nel remake Sì è la stessa voce di Oron e Squall il doppio torre di Kite Allora qui c'è la scena Eccola Allora Grazie a tutti 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 Travestito da... Grazie a tutti 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 Ecco perché Grazie a tutti 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 Guarda Grazie a tutti 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 Eccolo, attenzione, è il sorpasso, è il sorpasso, è il sorpasso. Mi è sembrato di tornare su Clash Team Racing, ah no, sono lontanissimo, l'ho distaccato alla gran. Io ho dato un pugno, io ho dato un pugno mentre stavano festeggiando, e che cazzo è impazzito totale. Non c'è quanto sia il nostro amore, non c'è il chezzo. Vado a farlo, è un'attività! Vado a farlo! Ora, che ti è un'attività, non ti è un'attività! Vado, io sono un'attività, non ti è un'attività. Non ti è un'attività, non ti è un'attività! Ah, ecco! Vado a farlo! Noi ok possiamo andare perché abbiamo comunque già fatto tutto così ora appena arriviamo da barrett e ci facciamo l'impatriata per stasera stacchiamo perché tanto non ci arriviamo comunque considerando che c'è tutta la parte di la parte di jane e tutto credo proprio che non riusciamo a concludere il gold saucer non riusciamo a concludere il gold saucer ecco punto quindi inutile calcare la mano lo facciamo con calma domani e sti cazzi se sblocco le parti secondarie del deserto eccetera eccetera ce le facciamo e amen vedi però già siamo qui però nella zona desertica quindi vedi già effettivamente qui è una delle zone che poi dovrò andare ad esplorare solo che quelle zone le posso raggiungere solo col baghi quindi per il momento cacca pupù minchia l'ho beccato completamente a caso quello che culo però vedi una cosa che per esempio di sto gioco non mi sta piacendo il fatto che i negozi oggetti armi sono completamente inutili perché le armi le trovi in giro e il negozi oggetti comunque vende sempre roba aia vende roba diciamo più scadente vende roba diciamo vende roba diciamo sarà bello poi girare col baghi ovviamente poi l'avvoltoio sta passando in tutte le zone dove ci sono nemici ovviamente è vero che io li posso schippare perché comunque li posso schippare però cioè per dire questi li schippo perché mi danno fastidio che sono nemici volanti e non mi piace oh no non mi dite che c'è una boss fight ah tempesti di sabbia ecco qui ora dove dove barrett gli spiega la situazione che sarebbe la stessa scena di quando loro entravano nella casa abbandonata lì seguendo barrett per le spiegazioni non mi dite non mi dite NANDE OMAERAGO COCOINI GOLD SOSER DE OCCOTTA JICEN NO HANNIN O URTTE IRU HANNIN WHA KATA UDE GAT ZIU NO TOCO DATTE NARUHODO NA ANTA JANAI NDA GA Questa parte l'hanno E' un po' modificata effettivamente E qui parte lo spiegone Enzo L'hoca A L'hoca E Dime Grazie a tutti. 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 Tutti a prescindere. Sub, follow. Sub, follow, tutti. Vi vediamo domani. Grazie a tutti.